hello bentornati e benvenuti sul mio canale amici quella di oggi è una di quelle supposte un po a cavallo tra due discipline si amici oggi parleremo un pochino di architettura ma soprattutto parleremo di design perché perché oggi conosceremo Ettore Sozzas Junior ma prima di iniziare devo ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video futuri in più assicuratevi di seguirmi su Facebook e Instagram dove grazie a contenuti interattivi e a sondaggini mi potrete aiutare a decidere gli argomenti per i prossimi video quindi seguitemi grazie ma torniamo a noi Ettore Sozzas Junior architetto e designer italiano scomparso nel 2007 all'età di 90 anni figlio di un altro architetto famoso esponente del razionalismo italiano ovvero Ettore Sozzas Senior Ettore Sozzas Junior nasce a Innsbruck in Austria e si laurea anche lui come padre in architettura al Politecnico di Torino nel 1939 costretto a partire al fronte per sei anni passati come prigioniero in Montenegro al suo ritorno inizierà la carriera d'architetto aprendo un proprio studio a Milano e affiancando l'attività del padre ma sin da subito il giovane Sozzas esce da ogni schema immaginabile per un giovane architetto borghese del tempo la guerra lo allontanerà dalla sua vita agiata e al suo ritorno il fatto che voglia disertare l'arma che gli toccherebbe nuovamente e il suo rinnego del regime fascista lo fanno da subito diventare una sorta di ribelle dell'architettura ribelle politico ma soprattutto ribelle intellettuale Sozzas rimane a fare l'architetto per un po' ma di lui più in là si dirà che è un artista definizione è che però gli starà un po' strettina infatti egli stesso dirà mi arrabbio quando mi dicono che sono un artista cioè non mi arrabbio ma sono fondamentalmente un architetto eppure anche secondo me lui è un artista fin da subito l'architettura lo appassiona certo ma il giovane Sozzas nel frattempo fa molte altre cose è un pittore un disegnatore e persino uno scrittore complice probabilmente l'incontro con la prima moglie la scrittrice Fernanda Pivano incontro incredibilmente romantico tra l'altro perché rimandato a lungo dato che lei era già sposata fino al momento in cui nel 49 lei disse che avrebbe lasciato suo marito se Sozzas fosse stato ancora disposto a stare con lei e lui rispose sì mi piacerebbe moltissimo e fu proprio così che lei lasciò suo marito e si trasferì a Torino al fianco del nostro Ettore con cui nacque un suo dalizio sentimentale certo ma anche intellettuale a questo proposito vi consiglio una splendida lettura ovvero scritto di notte libro in cui è Sozzas stesso a raccontare la sua vita attraverso tutti quei frammenti che sono prodotti artistici che egli ha fatto negli anni disegni progetti e scritti che raccontano l'architetto il designer e soprattutto l'uomo e bene amici da questo preambolo deve essere abbastanza facile immaginare come il talento di Ettore Sozzas possa essere diventato così poliedrico e colorato consacrandolo come uno dei maestri creativi più importanti del 1900 effettivamente la carriera d'architetto in un'epoca storica in cui i vincoli progettuali e creativi erano comunque parecchi era un abito che al nostro Sozzas andava parecchio stretto a lui piaceva creare raccontare storie e avere anche una certa libertà nel farlo eppure fu proprio la gavetta all'interno dello studio del padre a farlo avvicinare al mondo del design quando nel 1958 dopo aver aiutato il padre nella progettazione della factory di Olivetti venne assunto proprio dall'azienda per collaborare al design delle innovative macchine da scrivere e delle avveniristiche con soldi calcolo ovvero le antenate dei nostri computer fu proprio in quegli anni che nacque la celebre macchina da scrivere Valentina tuttora l'icona forse principale del brand Olivetti e negli stessi anni Sozzas concepì anche il design del computer mainframe Elea 9003 progetto che addirittura nel 1959 gli valse il prestigioso compasso d'oro si aprì così la carriera di Sozzas designer perché il lettore Sozzas architetto era un uomo sofferente un uomo costretto a creare solo per pochi infatti l'architetto italaustriaco ha sempre accusato il sistema di spingerlo ad interrogarsi sulle tematiche dell'abitare senza però poter varare tutte le possibilità che la parola abitare racchiudeva al suo interno la questione della casa infatti era cosa di tutti esigenza comune era l'argomento che per antonomasia accumulava praticamente tutta la gente di qualunque strazione sociale eppure andava a finire che i clienti del Sozzas architetto ma come probabilmente i clienti di tutti gli architetti dell'epoca e non solo fossero miliardari citando lui stesso certamente chi mi lascia fare qualcosa è sempre gente molto ricca perché i poveri non vengono da me non vanno da nessuno i poveri ricevono quello che il potere gli dà come abitazione come distacco dal centro delle città ho anche questo problema parlo di case per la gente però poi queste persone sono solo miliardari e questo al Sozzas architetto non piaceva affatto fu così che iniziò ad esplorare il campo del design perché creare un piccolo oggetto sicuramente economicamente più abbordabile dall'italiano medio significava creare qualcosa di ponderato di progettato ma non necessariamente destinato al borghese di Milano ma arrivabile anche dall'impiegato di Messina e sì perdonate questa affermazione un po nordista ma ho voluto parafrasare le esatte parole di Sozzas che dice proprio questo insomma la virata verso il design nasce principalmente dalla sua delusione nei confronti dell'architettura nei confronti di questa tendenza degli architetti ad approssimare in maniera presuntuosa e altezzosa fu così che iniziò ad indagare innanzitutto il mondo dell'arredamento del design interni infatti durante il suo primo viaggio in america Sozzas collezionerà una serie di suggestioni che ricomporrà a mo di collage per la sua partecipazione all'altriennale di Milano del 1960 componendo un ambiente di interni fatto di quadri stoffe e oggetti fatti di diversi materiali tutti che però raccontavano delle storie questa esperienza lo spinse poi a continuare la sua ricerca nel campo della ceramica dello smalto sul rame del gioiello e del vetro per esempio a partire dal 1955 collaborò con la Bitossi ceramiche infatti la Bitossi lo chiamò per ideare nuovi oggetti per la new yorkese Raymore per poi tenerselo altri 30 anni all'interno dell'azienda lasciandogli anche compiere ricerche più personali e di natura decisamente più artistica tra cui è sicuramente doveroso citare i celebri totem e la meravigliosa serie di vasi bianco e nero rocchetto e più o meno a partire dallo stesso periodo Ettore Sozzas lavorerà anche con poltronova dando alla luce alcuni oggetti che sono tuttora delle icone del design come per esempio gli armadi super box e il meraviglioso specchio ultrafragola che voglio tantissimo comincia così la sua sperimentazione estetica fatta di prove giocosi tentativi verso quello che è il totale rifiuto della funzionalità degli oggetti dovete sapere infatti che Sozzas Senior padre del nostro protagonista di oggi era un maestro del razionalismo italiano questo lo abbiamo già detto in realtà e quindi essendo il figlio stato suo apprendista il suo approccio influenzato dagli insegnamenti del padre è sempre stato un approccio di stampo razionalista lui stesso diceva io sono figlio dell'illuminismo cioè sono un razionalista in realtà penso prima di fare al contrario di quello che dicono gli americani do it che mi sembra una frase un po' primitiva ed è estremamente curioso come in realtà questo suo modo di pensare al progetto prenda poi in corso d'opera una strada completamente diversa Sozzas infatti è un antifunzionalista come abbiamo già detto cosa vuol dire beh in soldoni vuol dire che per lui l'oggetto non deve necessariamente avere una funzione pratica ma deve veicolare un particolare messaggio poetico e dovete capire che questa è una concezione di progetto che stride abbastanza con la mentalità razionalista gli anni che vedono il sublimarsi di questo pensiero sono gli anni in cui Sozzas insieme a martin beden aldo cibic michele delucchi matteo tunne marco zanini fonderà un collettivo che si interrogerà sulla natura stessa del design esplorando delle vie del tutto inusuali rispetto alla corrente minimalista che stava andando particolarmente di moda in quegli anni collettivo che sicuramente è stato di ispirazione per la nascita del radical design il gruppo nel 1981 organizza una mostra con il titolo memphis parola che diventerà poi il nome identificativo del gruppo stesso memphis era una mostra di mobili progettati da designer italiani ovvero dal nostro famigerato gruppo memphis ma anche una raccolta di pezzi da autori internazionali europei e fino anche americani e giapponesi fil rouge della mostra erano le decorazioni laminato plastico e soprattutto le colorazioni vivaci e improbabili dei mobili esposti si trattava di un tentativo estremamente pop di rivisitare il design interni prendendo diciamo più milanesi quelle correnti che erano considerate esotiche filtrandole attraverso il modernismo architettonico europeo ma non interpretato canonicamente bensì visto attraverso gli occhi di un bambino praticamente era un riferimento alla cultura europea più elevata ma resa più italiana e alla portata di tutti i mobili dei memphis sono grossi complessi pur essendo composti da geometrie semplici e colorati in maniera che potremmo definire decisamente impegnativa e ve ne voglio citare far vedere qualcuno come la leggendaria libreria carton o lo specchio diva il tavolino bowie la lampada tahiti o gli scaffali casablanca e ce ne sono molti altri ma se ve li facessi vedere tutti faremo notte naturalmente potete anche solo immaginare le critiche che il gruppo memphis ricevette all'epoca del suo debutto vico magistretti designer manifestò il suo totale dissenso per questo design che a sua detta oltreggiava la sua personalissima idea del bello e anche vittorio gregotti si espresse abbastanza duramente dicendo che non era assolutamente interessato a questi giocattoli che i memphis avevano realizzato ma questi giocattoli avevano una morfologia una poetica del tutto calibrata su quella che era l'idea di arredare uno spazio propria di sozzas proiettata e condivisa naturalmente da tutto il gruppo memphis sozzasi infatti disegnava questi mobili grossi dall'aspetto anche un po grottesco se vogliamo proprio per contestare il cosiddetto stile borghese per togliere all'arredamento ogni funzione pratica ma anche la funzione di status symbol egli stesso dirà che ha disegnato questi mobili così grandi pesanti quasi degli elementi architettonici più che d'arredo con questi basamenti grossi e massicci per virgolette sottrarli al kitsch dell'arredamento tipicamente borghese egli infatti dirà che li ha concepiti in maniera così radicale ed eccentrica perché non stiano volutamente bene con nulla perché non abbiano nessun tipo di oggetto coordinato perché secondo sozzas i suoi non sono mobili ma monumenti da piazza stand alone non hanno uno stile preciso e probabilmente nemmeno un potenziale di mercato lui infatti si aspettava che non vendessero quasi per niente se non magari a qualche collezionista strampalato e probabilmente neanche italiano ma forse americano ma oltre a questo dopo anni di minimalismo e di essenzialità sozzas butta fuori degli oggetti che fanno della decorazione una componente progettuale fondamentale qui la decorazione viene usata quasi come strumento culturale il gruppo memphis di fame ed immagine paragonabile a una rock band si sciolse proprio come una rock band dopo pochissimi anni di attività ma il loro lavoro rimane comunque uno dei capitoli più importanti e soprattutto più interessanti del design italiano e internazionale insomma amici ovviamente l'attività di ettore sozzas è stata molto più vasta di quanto vi ho raccontato in questo video ma ho voluto soffermarmi più che altro sul pensiero sui concetti che hanno fatto di sozzas un vero e proprio mito nel campo del design era un uomo eclettico e poliedrico con una solida formazione certo e con una sconfinata cultura giovane borghese ricchetto e frequentatore di ambienti intellettuali sozzas era però anche un amico della gente come lui stesso amava definirsi un architetto un po' disilluso e stanco di queste inutili e pretenziose divagazioni intellettualoidi lui voleva fare voleva costruire voleva entrare fisicamente nelle case e nonostante la critica del tempo fatta soprattutto dai colleghi sia stata abbastanza spietata ad oggi possiamo dire che sozzas sia uno dei maestri creativi che più hanno rivoluzionato il concetto di abitare e vivere la casa i suoi oggetti non sono strumenti non sono utensili sono sculture monumenti come abbiamo detto sono cose con un'anima e anche se magari le si possono trovare un po scomode poco funzionali sono oggetti che raccontano delle storie parlano e secondo me una casa un'abitazione deve sia essere funzionale alla vita e pratica ma deve anche soprattutto raccontare di noi e del mondo ebbene amici anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio e anche oggi avremmo potuto dire mille milioni di cose in più ma spero comunque di aver soliticato la vostra curiosità in più voglio aggiungere che se avete la possibilità di avere un oggetto firmato da sozzas o se magari lo possedete già in casa tenetelo e fatene tesoro perché ogni suo pezzo oltre ad essere secondo me un'esplosione di genialità ha un valore inestimabile dato che anche il suo valore monetario è quasi inestimabile se doveste trovarvene uno in più beh sentitevi liberi di farmi un regalo scherzo anche se mi piacerebbe dunque amici se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare sul pollicino in su perché così mi rendete molto contenta inoltre continuate a sostenere il mio lavoro iscrivendovi a questo canale e seguendomi su tutti i social io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.